Ciao. Vuoi scherzare? È stato il nostro lavoro migliore. Però la prossima volta Powder non viene. Vuoi scherzare? Do the trick Why do we need here? Is a little bit of panic Do you know what it can't be here? Sono io! Mezza dozzina di agenti morti! Agenti morti! Sì. Un palazzo fatto a pezzi! Sì. Hai la minima idea di che cosa hai fatto! In realtà... ce l'ho. Buongiorno del progresso! Buongiorno del progresso! So che rende diversa, ti rende forte. Buongiorno del progresso! Non ti rende forte, non ti rende forte. Ho! Nono! Buongiorno del progresso! Chuck! Tiram, io mi chiamo Tiram Mi hai quasi convinta, Chuck Perché il trambosto? Il capo vuole che prendiamo qualcuno Qualcuno? Cioè chiunque? Tu che prenderai? Qualche ragazza Non che vada in giro a rapire ragazze A parte quelle più disponibili Pensaci Chi sono? Perché non mi hanno invitata alla festa? Questo non lo so Ma hanno litigato con Sevica L'hanno messa in mezzo Oh davvero? In mezzo a che? È solo un modo di dire Hai fatto un ottimo lavoro, Chuck Tieni, per il disturbo Ho il sospetto che tu e io Siamo partite con il braccio sbagliato Forse dovremmo provare con l'altro Lo sapevo che saresti tornata Che cosa succede? Lui ci ha portato via tutto Proprio qui appugna la tolla schiena Wender Ha provato a farlo anche con me Sempre a dirmi che mi avevi abbandonata quando conosceva la verità Sei un bugiardo Manca ancora qualcuno Stamattina ho fatto una visita alla tua ragazza Che cosa le hai fatto? Le ho preparato uno snack Ma dai, non sono mica così matta Che cosa le hai fatto?